Questo programma è stato presentato da MPYTP The new YouTube Pup Factory Buongiorgio Oggi scopo un credito intelligente Che ha instaurato con un credito efficiente Un rapporto basato sull'ascolto La figa scelte responsabili e sostenibili e sostenibili Osservate come questo credito Trova sempre la figa su misura Fernovus Sarnovus Vernicia su Carso Nel colore ruggine che Carso vuoi Senza Carcare Senza stendere l'antirenis In un colalo Cosa Carso state facendo? Sto giocando E carcarando Giovanni mi aiuta Brava Brava Fernovus Sarnovus Salve Capitan Finchetto è arrivato Davires Niii Ho girato mezzo merlo per trovare il cazzo migliore Quello dai bastoncini fini bianco e buone spine Niiin E voi mernei guardate Sotto la croccanproseste luce solo bianco miglio Niente di meglio per crescere meglio Bastoncini di merluzzo finix Niente spesce Niente forza Buone spine Iiii Unimosi 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 Ehi ehi, let's go!